Direttore Cestrone, qual è l'attuale situazione dei contagi presso la casa di cura Rizzola? Allora, proprio in questi giorni abbiamo chiuso, in accordo con la direzione della nostra ULS, il reparto Covid, perché tutto il reparto di medicina era destinato ai malati Covid e siamo tornati alla normalità con il ricovero di pazienti non positivi, pazienti normali insomma. Quale protocollo viene attuato per il ricovero di un paziente? I pazienti che vengono ricoverati in chirurgia qui da noi fanno tutti a casa o lo fanno qui da noi un tampone molecolare in modo da avere la garanzia di attendibilità, perché i tamponi non molecolari, quelli rapidi, quelli di ultima generazione, sono molto più validi, ma i primi non sono un granché, per cui non volevamo correre rischi e quindi i pazienti vengono dentro con un tampone negativo. Dopo due o tre giorni fanno un altro tampone, perché non si sa mai che il periodo di incubazione della malattia è di quattro o cinque giorni, per essere sicuri ripetiamo il tampone e se il paziente resta ricoverato più a lungo vengono fatti ulteriori tamponi. Noi abbiamo voluto questa prevenzione per i ricoverati per evitare ulteriori contagi, perché abbiamo avuto molti dipendenti qui dentro che sono stati contagiati dal Covid. Per fortuna la maggior parte in maniera lieve, anch'io ho avuto il Covid, ma in maniera asintomatica per fortuna e molti sono stati asintomatici, per cui dovremmo avere adesso una base. Stiamo facendo anche i vaccini a tutto il personale e stiamo avendo una... adesso siamo molto più tranquilli. Sono autorizzate le visite dei parenti ai ricoverati? Allora, le visite non sono previste, purtroppo ci rendiamo conto che è pesante questo. Dove ci sia l'indispensabilità per l'assistenza, per esempio, di minori oppure pazienti che hanno grossi problemi di non autonomia, allora permettiamo, non la visita, cioè una presenza, però avendo fatto un tampone. Cioè non entra persone che non abbiano fatto il tampone. Questo è un discorso a cui teniamo molto, proprio per evitare il diffondersi della malattia. Abbiamo visto all'esterno una struttura per l'effettuazione dei tamponi. Tale struttura è disponibile anche per il privato? Certo, in questa struttura e l'abbiamo voluta all'esterno per evitare che possano entrare persone che sono senza tampone, in pratica. Qui eseguiamo i tamponi a tutto il personale dipendente che viene fatto periodicamente, proprio ogni settimana ed è aperto anche al pubblico. Non siamo convenzionati per quanto riguarda l'attività di laboratorio con la ULS per cui è un'attività questa a pagamento, però abbiamo abbastanza gente anche che viene a fare il tampone. In chiusura, direttore, possiamo definire al momento la Rizzola una casa di cura covid free? Direi che in questo momento, dal momento che abbiamo eliminato l'attività di ricovero per i pazienti covid, in accordo con la ULS questo, e con i controlli che facciamo su tutti i pazienti, che facciamo prima dell'ingresso, al terzo giorno, al quinto giorno e dopo periodicamente a tutti i pazienti che stanno più a lungo, quindi abbiamo, e lo stessa cosa facciamo con i dipendenti, dovremmo essere garantiti sufficientemente, direi.